ciao a tutti ragazzi bentornati qui con la north frisisch e marsch siamo a nord della germania north frisia e trasportiamo le balle abbiamo finito gli ultimi due giri di balle poi abbiamo terminator e così dopo con questi voglio andare i miei frutteti si faccio un po il pieno a loro un po quanto meno rimangono con l'altro rimorche sono tornati indietro per caricare le balle per la per il composter ci dovrebbe essere un altro viaggio 1 1 e mezzo una cosa del genere così dopo andiamo a tagliare la legna per mettere il nostro depuratore lo andiamo pure a piazzare però aspetta allora questo adesso non so quali mi ricordo più quale sono quelli che vogliono la paglia e quei questi secondo me la paglia la voglia la paglia o ti scarico la paglia ma dov'è la scarico vediamo un po' più buono questo è si è fatto il pieno qua ragazzi si è fatto il pieno di paglia allora le olive inquadratura strana erano le olive o i cosi che vogliono pure la paglia e che cavolo sempre qui ok le zucche vogliono la paglia torniamo all'otto con questo con questo torna all'otto e io dovrei provare pronto questo bravo ma altre quattro da 4 non ci sono secondo me sono solo questi due adesso facciamo una provola facciamo 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 ok non ce ne sono più benissimo allora voglio vedere se funziona questa cosa qua però eh allora posizione operativa spento posizione trasporto vediamo se funziona adesso andiamo di nuovo al composter a nord quello finalmente sta facendo un lavoretto discreto bisogna che lo ripristini perché secondo me è imballato per quello allora torniamo al acqua produzione no allora torniamo 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 merda che testa di cazzo che c'ho allora dov'è co composter eccolo qua composter 2 scarica composter fuso qua no valle percorso tu vai lì ma adesso funziona bisogna solo azzeccare la posizione giusta così che lui scarichi bene perché altrimenti fa un po' quello che cazzo vuole lui e allora io ho una balla qui è una balla è delle balle qui questo è il camion sì sì allora non andare all'otto vai al 19 19 no era questo 19 19 lo cambio questo lo faccio io cerca di quello che vuoi no però non devi tornare indietro ciccio devi andare di qui al massimo che deve andare di qua ok io inizio lo disproscamento aspettiamo che questo arriva ormai siamo lì dai aspettiamo che questo arriva facciamo una cosa facciamolo noi così arriva prima e poi mi sa che questo ha finito poi me lo tengo per un po' fin quanto poi ho anche il frumento da raccogliere le balle ne vengono fuori anche lì fin quando non finisce la stagione me lo tengo dopo lo cambiamo no lo restituisco non lo cambio che tanto non da solo dei gran problemi a meno che non lo facciamo noi allora in quel caso non ci sono problemi allora in quel tempo alziamo 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 non ci arriva era meglio l'altro ma ci arrivava di più allora facciamolo così dov'è qua zack zic zic zag zic zack zic zack zic zack ok ma allora vediamo un po' a che cazzo non lo facciamo a niente vediamo questo beh pure abbastanza ci vorrebbero i nastri però eh ok allora nessuno li vuole ne butto altri due nella cosa delle zucche e poi vediamo se quella di cosa ne vuole un po' altrimenti basta eee non lo facciamo eee ok li ha presi tutti allora tu dove vai intanto tu dovresti aver finito base lavaggio no perché c'è l'altro vedete che rottura di palle sta cosa allora devo trovare sempre la posizione giusta dammi posizione reset adesso si tutto a modo suo questo bagaglio merda merdone ok un'acchiata veloce a questo qua sotto vediamo se ne sono rimaste ne sono più di quelle che mi aspettavo che ce ne sono più di quelli che mi aspettavo allora campo qua si lo ballo e scarico a destra ballo e quadrate vai questo se la vede lui e io vado a tagliarmi un po' di alberi un po' di alberi tanto mi serve il ceppato facciamo ceppato questa è un po' di è un po' di Grazie a tutti. 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 Devo toglierne ancora di alberi? Penso di no. O forse sì. Questi qua forse li devo togliere. Proviamo. Tanto siamo qua. Tanto siamo qui. Corso troppo. Corso troppo. Corso troppo? No, qua. Infatti dico, ma perché non li trovo? Ecco qua. togliero anche questi. ? Grazie a tutti. 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 Abbiamo fatto il pieno. Abbiamo fatto il pieno. Benissimo. Allora, speriamo che adesso però ci sta. Ops, no. Questo. Construction. L'ho provato un paio di volte. Vediamo un po'. Se devo provarlo ancora. Se devo provarlo ancora. No, ci sto. Perché è denaro insufficiente? Oh, sì. Oh, sì. Mi sa che questo lo devo tirar via pure. Allora, tiro via. Allora, tiro via anche quest'albero qua, faccio l'entrata lì dov'è il trattore. E poi posso anche il trattore. E poi posso anche piazzarlo. E poi posso anche piazzarlo. Perché secondo me abbiamo fatto. Sì. Allora, devo tirar via anche quell'albero lì. Dov'è il tractor. Questo. Allora, adesso lo tiro via tanto mi frega. Anche se non va dentro. E tiriamo via anche questo. Dobbiamo solo stare attento al palo. Ma se vedo che mi dà fastidio lo tiro via. No, questo non lo prende. Ah, che cavolo. Allora, questo qua dove vado a scaricare? Quasi quasi vado a scaricare. Aspetta, vediamo se me lo posso scaricare qua dentro. No. Mi vorrei scaricare un pelo per vedere di finire di tagliare quell'albero. Almeno. No, ma tanto guarda. Non possiamo neanche comprarlo perché non ho i soldi. Allora facciamo una cosa. Che è... Adesso questo lo vado a scaricare tutto alla cartiera. Noi ci vediamo alla prossima puntata dove andremo a vendere del materiale così possiamo comprare il depuratore. E vediamo se accumuliamo tantissimo soldi, tanti soldi, tanti soldi, per acquistare anche la nostra isola d'estrazione. Ok? Vediamo se ce la facciamo fa tutte e due le cose. Vediamo un po'. Allora appuntamento alla prossima puntata con la North TV Smarts. Un salutone. Ciao. Allora appuntamento alla prossima puntata con la North TV Smarts.